Eccoci qua ragazzi con le pagelle di Inter Juventus, io ancora non mi rendo conto della facilità della partita di ieri, c'è una Juve orrenda che poi oggi ho sentito Allegri stavo per dire Spalletti, Allegri che ancora una volta dopo averlo fatto appunto a Spalletti adesso giustamente negli spogliatoi va a inviare con Bacin, Marotta, la squadra, siete delle merde, stile Juve, bravi però mi raccomando tifosi juventini difendetelo sempre a questo bagliaccio. Arriviamo a noi, arriviamo a noi che è meglio, iniziamo subito, Onana, sei e mezzo, ragazzi intanto fortunato Onana, è fortunato perché? Perché è uno spettatore non pagante, quindi lui ha guardato la partita senza neanche pagare il biglietto, cioè meglio di così Onana insegnami come si fa, cioè lui non ha fatto praticamente niente, ha avuto, è stato, anzi è stato bravissimo su due occasioni particolari, cioè il tiro di Kostic e la bellissima secondo me uscita su Chiesa. Per il resto, ragazzi, forse due tiri addosso, che ha parato facilmente, basta, cioè era Juve ieri zero, zero, niente, però Onana in quelle due occasioni è stato bravo, io gli do sei e mezzo. Darmian, che giocatore Matteo, continuate a sottovalutarlo, solo perché si chiama Matteo Darmian, continuate a sottovalutarlo, sempre ottime prestazioni, dove lo metti sta, lo metti a fare la griglia insieme a Correa, a fare la griglia insieme a Correa, lo metti a fare le pulizie di casa, ti fa le pulizie di casa, lo metti esterno, ti fa esterno, lo metti terzino, ti fa sterzino, lo metti a sinistra e non a destra, ti fa anche quello, lo metti il braccetto della difesa 3, ti fa anche quello lì, ti fa tutto, ti fa tutto, vuoi che ti faccia il meccanico? Chiama Matteo Darmian, devi chiamare Matteo Darmian per tutto, perché lui è un tutto fare, dove lo metti sta e quello che è ancora più importante è che fornisce sempre ottime prestazioni, la sua prestazione te la fa sempre, ieri ragazzi in difesa top, c'aveva Chiesa e poi c'aveva Milik e poi c'aveva Kostic e poi questo e un po' quella senza fatica, senza fatica, senza mai andare in affanno, Matteo Darmian 7 e attenzione perché io ancora una volta devo chiedere scusa al signor Francesco Acerbi, io ti chiedo ancora scusa, io ti devo chiedere ancora scusa, ti sei dimostrato ragazzi, ti sei dimostrato monumentale, che partita ieri di Acerbone, che partita di Acerbi, intanto si sta tirando ancora fuori dalla tasca Milik, perché ragazzi, vabbè vuoi dire Milik, però intanto se l'è messa in tasca, Chiesa e tutte le sue incursioni, mi è fregato un cazzo, ma voi ragazzi, ma poi ragazzi, ma che intervento ha fatto su Chiesa da dietro, ha preso la palla dove Chiesa era già sparato e lui l'ha rincorso da dietro e in scivolata ha preso il pallone, che cazzo di intervento ha fatto? E intanto della parte opposta ci sta un certo Bremer, 50 milioni, peggiore in campo, peggiore in campo, che cazzo ce ne facciamo di Bremer quando ci abbiamo Acerbi? Ah, bravo Acerbone, bravo, ti voglio bene, bastoncino, bastoncino 6,5, molto bene, in difesa ieri ovviamente meno apporto offensivo, perché comunque dietro c'era da tenere d'occhio un certo Angel Di Maria, però comunque lo tiene bene, a volte con l'aiuto di Di Marco, a volte con l'aiuto di Michele, a volte anche da solo, che gli ha rubato un paio di palloni, ieri bastoni ha fatto il suo, 6,5, Doomfries, oh, Doomfries, 6,5, finalmente un bel Doomfries, io ieri sera anche nella live reaction, ho rivisto oggi diciamo molte azioni di Doomfries e la partita, ieri Doomfries l'ha fatto bene, ieri Doomfries l'ha fatto bene, aveva qualche sbavatura tecnica nel controllo palla, un po' di lentezza, vabbè, ma lo sappiamo, ok, com'è, però ragazzi ha fatto delle ottime sgaloppate, c'è stata quell'azione su, che poi è arrivato l'assist per Lautaro, che è mancato di poco, che ha fatto una, ha messo giù una palla, ha sgaloppato, cioè ragazzi, quella è stata una superazione di Denzelone Doomfries, bravo Doomfries, dietro non ha fatto nessuna cappellata, quindi un bel 6,5, barella ragazzi, i miei 7,5, barella mio, ma se tu pensassi meno a rompere i coglioni, a protestare o a sbracciare, tu saresti veramente un giocatore formidabile, sempre, perché a volte, come un'altra volta, entri, protesti, ti pigli un giallo, altre volte prendi e sbraccia a destra-sinistra e pensi più a sbracciare che a fare le prestazioni in campo, vedi che quando sei concentrato sei un top, perché lo sappiamo che sei un top giocatore, poi vabbè, ovviamente sei come tutti, perché ti chiami barella, sei sottovalutato, ovviamente, però ragazzi, cioè, pronti via, un cross bellissimo, dove? Lautaro sfiore e Giacomo non insacca, poi fa l'assist geniale per Di Marco, poi è dappertutto, a destra-sinistra, partita totale, qualità, quantità, recupera balloni, frasetti, tutto, tutto, fa tutto, tutto, sette e mezzo, sette e mezzo, barellino. Ciala, cialda croccante, molto croccante, voi ditemi quello che vi pare, ma io preferisco Cialanoglu in quella posizione piuttosto di Brozovic, l'ho detto, eh, l'ho detto ragazzi, cioè, con Cialanoglu, allora, la manovra sembra molto più fluida e molto più veloce, ma soprattutto perché? Perché quando poi si arriva in zona offensiva, un Cialanoglu mi può sempre fare, eh, comunque, mi dà comunque l'impressione di poter fare quel qualcosa in più, anche un tiro dalla distanza, un Cialanoglu c'era molto di più rispetto a un Brozovic, come assist man, magari solo lì, perché anche Brozovic sa fare gli assist e tutto quanto, però non lo so, Cialanoglu, secondo me, in quella posizione, ti dà qualcosa in più in zona offensiva e la manovra sembra più veloce. Ieri, ragazzi, ha fatto molto bene, ha fatto giro al VNPAL, non ha fatto sbavature, quindi sei e mezzo. Mi chiederanno, eh, vabbè, ragazzi, ma che giocatore, è vero, nella prima parte di stagione è partito un po' col freno a mano, a rallenti, eccetera, ma ora è imprescindibile, cioè non puoi toglierlo, cioè tu non puoi toglierlo da mezzo al campo, questo era partito come panchinaro, ma tu adesso non puoi toglierlo, quali, come sempre dico, qualità e quantità difende, attacca, recupera palloni, palleggia, fraseggia, tira, assist, tutto fa. C'è l'ultima mezz'ora di Big Italian, avrà intercettato, sì e no, una decina di palloni, ragazzi, Big Italian, cioè, poi stava per fare pure un bel gol dove Perin ha fatto un miracolo, ha fatto una grandissima parata, ragazzi, Big Italian super, Di Marco, sette e mezzo, si ritrova davanti a Perin e non sbaglia, che poi l'ha presa bene, l'ha presa male, mi feca un cazzo, è andata dentro la palla, non ha sbagliato, sblocca la partita, vale la finale, a fine partita non voleva neanche vedere interista vero Dimash, comunque con lui l'Inter fraseggia molto meglio rispetto a Gosens, ragazzi, ditemi ancora, Gosens, 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 io veramente non so che cazzo guardate, io ve lo giuro, non so che cazzo guardate, con Di Marco la manovra è mille volte meglio, è molto più pericoloso e quant'altro, ragazzi, per piacere, andatevi a vedere le partite, perché se mi dite, no, aspettiamo Gosens che è più forte di Di Marco, ma da vaffanculo, poi sette e mezzo Dima, Dzeko, Dzeko sei, per me non merita l'insufficienza, si vede che ancora nella fase in cui fisicamente non riesce a fare quello che vuole fare, però ragazzi, la classe rimane, cioè, intanto aiuta la manovra, come sempre, Dzeko aiuta la manovra e con una Juve tutta dietro serve, ok, quindi ha aiutato la manovra, poi ragazzi, ma che gol in fuori gioco, giustissimo, per l'amor di Dio, ma che gol ha fatto, ma che gol ha fatto? Mi sembrava Milito, ragazzi, nel 2010, finale di Champions League contro il Bayern, l'ho detto forse anche ieri nel post partita, voi andatevi a rivedere quel gol dove punta, adesso non mi ricordo chi era il difensore del Bayern, forse è Bud Stuber, non mi ricordo, non sono neanche andato a rivederlo, ma se voi andate a rivedere, c'è Milito che punta il difensore, se la porta sul destro, ok, facendo finta di andare, no, verso l'interno area, poi invece se la sposta sul mancino e via, anzi, no, lì fa il contrario, lì è, da una parte poi va verso il destro, invece qua è il contrario, però diciamo che la dinamica è uguale, fa finta di andare da una parte, per poi, boom, sposta la strada dall'altra, bellissimo gol, ma il punto è che Dzeko ha 37 anni, mi pare, non mi ricordo, però, se beve Bremmer, cioè, ragazzi, ma di che parliamo? Grande gol, poi comunque aiuta la manovra, fa il suo, certo, non posso dargli di più, per me il 6 è meritato, invece all'autaro do 6 e mezzo, perché comunque, cioè, gli manca solo il gol, è pericoloso con un paio di tiri, quello che recupera su Locatelli che esce di poco, quello dove era cerchiato da tre giocatori riesce a tirare per impare entrambi, il tiro alto, il tiro alto di poco, comunque il suo lo fa, gli manca solo il gol, non arriva per poco, prima sul cross di Barella e poi su quello di Duflis, poi lotta a destra, lotta a sinistra, quindi un lotaro, io un 6 e mezzo gli lo do. Adesso però andiamo a vedere i subentrati, insomma, così così. Allora, Brozovic, gli do 6, ma è più un 6, cioè, lui entra, deve stare là a difendere, fa girare un po' palla, cioè, non è che fa chissà quali grandi cose, però non fa nessuna sbavatura, ecco, fa il compitino, cioè, alla fine tutti quelli che sono entrati, si sono visti poco, perché in quel momento lì l'Inter era quella che difendeva e non era più l'Inter appunto ad avere il pallino del gioco in mano, quindi si sono visti poco, però Brozovic solo l'ha fatto. Invece, Lukaku e Correa, sì, ripeto, dovevano difendere, ok, quindi erano più in fase difensiva che offensiva, forse col pallino del gioco ancora in mano dell'Inter, sì, è vero, qualche azione l'abbiamo fatta, però non era come prima, si vedeva che l'Inter era quella che difendeva e poi magari ripartiva. Scusate, ho ancora un po' il raffreddore. Però, ragazzi, quei pochi palloni e quelle poche azioni offensive sono state sfruttate male, sia da Correa, sia da Lukaku, non si sono trovati, hanno perso il pallone, non hanno tenuto bene la palla, insomma, 5 e mezzo entrambi, perché è vero che come Brozovic non si sono visti tanto, però Brozovic non ha fatto nessuna sbavatura, cosa che Lukaku e Correa, secondo me, qualche sbavatura l'hanno fatta, 5 e mezzo. Gosser, 5 e mezzo, ma mi ha fatto incazzare molto di più di Lukaku e Correa, onestamente, perché questo entra, ok, deve fare il suo come gli altri in difesa, però cazzo, ma in attacco, ragazzi, ha avuto 2-3 cross, tra l'altro anche golosi, e li ha sbagliati tutti, c'è stato un cross anche da dentro l'area, completamente sbagliato, c'è ha avuto l'occasione di fare 2-3 cross, di cui almeno 1-2 da dentro l'area, e li ha sbagliati tutti, ma fai che poi mi dite ancora di Gosens, ma ragazzi, ma per piacere, Bagliardini senza voto, è il re di coppe, 8, Inzaghi, il re di coppe, mette la miglior formazione, l'unico dubbio forse era se Dzeko o Lukaku, ma va bene così, i cambi erano quelli che dovevano fare, perché alla fine Brozovic è entrato per Barella, che era acciaccato, Lukaku per Dzeko che non stava brillando, lo stesso Gosens per Di Marco, si sa che Di Marco dopo un po' non ne ha più, c'era l'anocula, anche lui era un po' acciaccato, è dovuto entrare a Gagliardini, e poi comunque correa a Lautaro, anche lui a Lautaro dopo un po' non ne aveva più, l'uniche due cose magari erano inizialmente Dzeko o Lukaku, ma lì non è un errore, lì è semplicemente scegliere uno dei due, e secondo me forse Dzeko ci può stare, perché comunque aiuta nella manovra, ecco Gagliardini per Ciala, so che Gagliardini sta sul cazzo, magari io avrei fatto entrare Aslani, però siamo sicuri che Aslani in questa partita qui magari era da mettere, a parte che non fa quel ruolo lì Aslani, ok? Lo puoi adattare, quindi l'unico era Gagliardini, però va bene così, quindi non c'è niente da dire, poi la Juve non fa letteralmente niente, non fa niente, impacchetta la Juve, impacchetta Allegri, vince di cortomuso contro Allegri, lo fa pure sbloccare, lo fa pure rosicare di brutto, prima ci pensa il Napoli a farlo rosicare, ma ci pensa pure l'Inter, c'entra la finale di Coppa Italia, automaticamente c'entra la Supercoppa del prossimo anno, ci andremo a fare un'altra finale di Coppa Italia, ci andremo ancora a giocare la Supercoppa, mo, mo, vediamo, vediamo, intanto la finale ce l'abbiamo lì, vediamo come andrà, se riuscirà a ripigliarsi in campionato, in Champions vediamo come andrà, ma in Champions siamo già andati ben oltre le aspettative, quindi 8, 8, 8. Io con questo concludo, vi aspetto al prossimo video e basta, sempre solo, forza Inter. Ciao gioventini!